schiena e compiuto cazzo tutte le ruote le master ctc metti ci stavo pensando prima metteci un coso tirato un dado del volvo di avere la mia parte tirato un dado facebook se non è stato dedicato non serve niente perchè se ti danno tipo la prima cosa utile è tipo 200 euro le cose hanno vabbè non è un'altra prima cosa prima cosa che ti danno ea a pochi referati da un tier 3 3 cmp un monsignor non so siti e stris la vita ah no lts e rosso rp se ritengo borca ancora ora andiamo a vedere questa parte qua un attimo di girare a destra che sembra che continui dove sembra che continui poi qua non sembra che continui il remediato che non sembra che continui a grotta ecco rotto l'epoca da un formicchio gigante un altro video gigante non mi piace che quel che ha fatto la sopra servito ma grazie la pasta serviva perchè tu c'è stato per risultati un bel po' nel senso che tipo per la prima parte con la survival insomma che sopra quella più esplorativa ok 30. per il biscotto scotto 1 il biscotto c'è la serata non c'è stato 6 a qui ora sono se si andava in là non mi sono cazzo in generale e no non le sue carnavo di quale non dico atto a me a sinistra vediamo se c'è qualcosa da sotto vediamo le donne le torce non riusciti aspetta inseris un muro d'acqua e si c'è un muro d'acqua a se non ci sarà nulla di essere il muro d'acqua se non ci sarà nulla di essere il muro d'acqua faccio c'è faccio c'è faccio c'è faccio c'è bisogna non esserci nulla se non ci saranno qualcosa ogni effetto no e che rende un certo livello si c'è un referente tipo un titolo sul forum poi ok per a 10 giorni attraverso erano tiantico niente fino a non so quanto e cosa guarda si eh sono un po' di mob se hai notato corriamo non andare di là creeper oppure non ho fatto niente mi ce l'ho stellato di sopra di me neanche toccato il creeper è dietro di me il creeper che segue mi lasse ah ma ne voglio man ma ne voglio man oddio guarda stanno accumulando i mob nell'acqua meglio così affogano non è vero la cabazza non faccio sto costeggiando questa paia dovuto spammare frecce percivano di spammare le frecce ma spammare in quel senso smazzo alzano in continuazione mi piace questo sistema di migliori di si ero prima era un po' c'è le frecce le frecce le frecce fanno più danno e' più c'è più intelligente non sarà meglio il vestito se questa è una buona cosa è 1.8 per me 1 1 1 per 1 2 2 3 3 4 4 4 5 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 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 8 8 9 9 10 9 9 10 10 10 11 10 11 11 12 12 12 12 ok è brutto quello colpo colpezzo davanti cosa è stata un passo per senzare nessuno sbocco in mani si è stato sorgso tra beno che sai e se è vero quest'anno questo sotto dove sotto sotto l'acqua sotto l'acqua sotto non visto ragione si fa l'acqua più scura c'è anche il fumo ma dove le stiamo con le 3 eh siamo fondo a fondo fattiva anche avesse la messa la vetro dato che è piana comunque si vanno a posto l'anno messo il fumo c'è solo si 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 non l'avevo visto le doverci ehm rotte in flash torrani un castrato pesca morirai qua ok ma che figata di mappa i i i i i i i i cibo s ritardati molto i i i i manama kent la sposa la la ma la la massa vai e poi troppo l'ospedale a non secondo me troppo posto scelto scelta cammera dici è fatta troppo bene per rimanere ancora orca stana orca. stana hai visto hai visto se riesco a arrivare girando è fatto bene per rimanere uguale fino a farti stancare oddio fischi hai visto la roba? non c'erano caricati no ma non c'erano caricati non c'erano caricati non c'erano far malate non romperla bar non c'erano non c'erano ma è stata fatta di evitato a prezzo il ninja oddio cazzo c'è un ragno stagione siamo fottuti il ragno che sta risolvendo lo sei lo stai facendo sparando a ragno perchè io in giro mi piace non c'erano ok qua c'è un sacco caricato arrivo subito occhio no ricordo ecco no 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 mille cric ma spara se sono ricordati se ricordi non è vero il momento di sconetti vittoria re con me ok 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 è vero da vedere sto posto è una cosa fatta con minecraft bella da vedere se è vero se non è facile non so da che parte andiamo ok allora no via verso il centro no ben chiaro dove siamo si andiamo su quello lì torta fissima che non sono due una sull'alte per essere un libro l'altra credo a farla torta ok c'è un ragno che si sente dove sei di solito c'è mancata su girarlo tranquilla adesso mi dice era fatta meglio sta cosa si almeno il danno è limitato ok ok c'è wow c'è qualcosa ma dio è stupendo ok ops che ho fatto mai quando arriva tipo un giga crash ci vuole più ram fai a cagare si serve la ram da compro da mucca e computer non compro certo da te fai propaganda in video vi ciò da ram da vendere troppo la mente su ebay se vi serve sono due cv tari per fighissime da 1.6 megahertz dissipatore integrato con un dissipatore sono con due moduli da 2 gigabyte qui sono 4 gigabyte in totale fanno buttato la pallina e basta non scendo mai sotto le 8 9 di rotten flash un sacco di cazzo di creeper no di mezzo non troppo solo di mob e poi non siamo ancora morto non è notato beh te tu sì però anche tu sei anche tu sei morto anche tu sei morto come sono morto come sono morto non mi ricordo vero ah mi avevo proprio ucciso con calma non è che mi ha sposto su un critico non è andato troppi modi ma ah no i raggi di ingegneri vada l'alto no eh io arrivo come lo stesso il sistema di combattimento di merda che ha stato solo clic 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 pesa una parata almeno potrò oddio guarda quell'area quale quella lì a sinistra qui sono qui sono merda 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 au stracuori tipo e la paranza è una danza che si balla sull'isola di ponza lì aspettila allora 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 qui sono mille mob una slime una slime una slime dove è la slime la ma no no è una gigante e però c'è anche un'altra di queste fantastiche scalatrici oddio no la cosa da fare l'arco 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 andiamo dove c'è stato finito la spada di mante non è successo a meno della metà io c'è un casino questo sto 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 uccido tutti glowstone un piccone che cazzo ne faccio va del cibo non della glowstone un piccone mc piccone di cosa e ferro si c'è la terra che è stato tipo si ma si è stato tipo nonningiare le vabbè i pezzi di ferro si l'arco la morte il 8000 volte non le avrebbero dovute mettere colpa l'arco l'amore cosa di ferro la quale storia in 12 no evita dai rarco io per dire la cosa è che il polizio staggianti mi sta attaccando il vetro se ne abbiamo le regate tipo un catalogo che catalogo se catalogo vabbè troviamo che si tipo che sono libri su qualsiasi cosa tutto lo scibile interessante scopriamo che queste persone vivevano in un pianeta chiamato lear che è stato colonizzato prima di 17658 bene questa colonizzazione del pianeta è avvenuta dopo la divisione con l'impero galattico più pianeti sono stati colonizzati durante la ribellione ma questo qua sembra l'unico dove ad essere sopravvissuto alla ricerca cioè alla detection alla alla ricerca si ho capito cosa intendo ho la ricerca da parte tipo dei di anni scopriamo che questa che questo asteroidi era una un pianeta e ci chiediamo che cazzo è successo perchè è imploso dove sei andato tu ho un letto perchè ho un letto ed ho spaccato vicino prima hai troppato i peletti c'è del cibo l'ho messo via un germe metto metto via carbone anche il carbone perchè è vero il mio sole un carbone se il buon talento se il buon talento se la torta dove eh qui eh qui qui eh no 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 buongiorno 4 se ho visto ma non mi serve se ho visto pietro se c'è c'è una fornace che sembra davvero una fornace che non 'è stata per strafighi e quindi c'è una fornace che si muore nonostante 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 c'è un albero anche figo quest'albero guardalo ahi tommy è stata tutta fine c'è il mio ma so verso l'altro oh cattopi ho fatto qui l'ho tutto da te che mi ha sapato no all'alto tommy alto qua qua acqua ma qui non c'è uno scasso ssh allora vi ha sto piano come fatte poi andiamo su ora questo ovviamente due diamanti buona mila hm temo di no andiamo l'altro secondario oddio sono mille porte no nonostante c'è un cesto e legge a castello c'è l'età a reso sedici punti un tipo due punti di un altro il funghi rossi due funghi marroni un bese di boone è che non staccano le storie line 13 o qua saranno fermati bla 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 ah ma sono anche queste porte st sti due cucchi che ascoli chi vuole mangi e c'è una vera minchia e se petto di vetro sopra un pezzo di legno non c'era stendica st st costoso qua non c'è